Buonasera e ben ritornati All'appuntamento con Sapere in Salute La nostra rubrica dedicata alla corretta alimentazione Qui con noi in studio abbiamo la dottoressa Annalisa Subacchi Biologa, nutrizionista e presidente dell'associazione Aliak Onlus Ovvero l'associazione per la lotta alle allergie, alle intolleranze alimentari e alla celiachia E assieme a lei stiamo facendo un lungo percorso educativo Legato ovviamente all'alimentazione e alla salute Perché sapere è salute oppure sapere in salute che poi è anche il titolo della nostra trasmissione L'argomento che abbiamo deciso di affrontare questa sera è a ampio spettro Perché analizzeremo il problema delle allergie e delle intolleranze alimentari È una sottile differenza che esiste tra i due Però sono tantissime le persone che hanno problemi di intolleranza alimentare E altrettanto tante quelle allergiche Quindi cerchiamo di capire assieme alla dottoressa Cercheremo di fare un pochino di chiarezza in merito a questo argomento Cercheremo di capire quali sono le sostanze che possono creare maggiore intolleranza e maggiore allergia Certo, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato E ovviamente come sempre qui con noi in studio abbiamo una persona, una signora Che ci racconterà la sua storia, la sua testimonianza Perché Tatiana è una donna di quanti anni? 40 Di 40 anni Che soffre di tante problematiche allergiche, giusto? Sì, ho iniziato da adolescente con varie allergie respiratorie, graminacce, betulacce E anche agli animali, gli accari Insomma negli anni diciamo che si sono sempre più aggiunte Diciamo che è una bella rosa, un bel carnet di tante carte da giocare Ma diciamo, qual è stato il suo percorso? Immagino che lei utilizzasse, non so, antistaminici? Sì, io da adolescente ho iniziato subito a fare i vaccini In periodi ciclicamente, in periodi annualmente Sì, vaccino Però effettivamente ho visto che negli anni Quando sono migliorati un po' un attimino Quelle che sono le fastidi agli occhi, al naso, eccetera Sono iniziate invece problemi alimentari Fastidi proprio di digestione, di dolori Quindi ci è voluto un po' per capire quale fosse effettivamente il problema E che era legato all'allergia respiratoria Ecco allora, io intanto la ringrazio Tatiana Poi cerchiamo di capire come si è voluto un pochino il suo percorso In modo da far capire anche tra gli spettatori a casa Che se uno, una persona ha un problema, diciamo, asmatico Che pensa di essere allergico alle graminacee Adesso siamo proprio nel periodo clou dell'anno Non deve pensare di risolvere solo utilizzando cortisonici o antistaminici Ovviamente nei casi più gravi, sì, si deve fare Perché questi possono salvare anche la vita Nelle condizioni, diciamo, quelle più pericolose Ma tutto parte da una corretta alimentazione E un corretto stile di vita E questo ce lo può insegnare la dottoressa Subacchie E qui per questo, questa sera Cerchiamo di capire il stretto legame che esiste tra alimentazione e allergia Innanzitutto, diamo una definizione di allergie e intolleranze alimentari Perché spesso vengono fraintese Vengono fraintese perché la differenza è proprio minima e proprio sottile Diciamo che l'allergia è una risposta immediata Nei confronti dell'assunzione di un alimento O nell'aver respirato una determinata sostanza Quindi, per esempio, sono allergico alle graminacee Tagliano un campo campo di frumento Comincio a starnutire Oppure sono allergico al pomodoro Mangio il pomodoro Sto male, immediatamente mi gonfio Ho scariche di diarrea, di senterie, eccetera, eccetera L'intolleranza, invece, dà la stessa sintomatologia dell'allergia Però consiste in un accumulo superiore di questi alimenti Fino ad arrivare all'ennesimo alimento che mi crea la problematica Cioè, cosa vuol dire? Sono intollerante al pomodoro Mangio pomodori tutta estate Probabilmente arrivo a settembre dove il mio corpo rifiuta il pomodoro E quindi mi dà una reazione Che può essere anche la stessa dell'allergia Come, per esempio, diarrea, di senteria Quindi il tempo, quello che è differente tra allergia e intolleranza alimentare È il tempo Allergia immediata Intolleranza, invece, è molto più lunga Quindi è un periodo di incubazione di diversi mesi, giorni, anni addirittura Ecco, diciamo poi che con l'allergia il sintomo è talmente forte Che in quel caso Si capisce subito che è un'allergia Mentre in quella lente cronica è più subdola Certo, può essere un banale raffreddore Può essere una banale influenza Può essere un banale mal di pancia Quindi che magari spesso non lo associamo a un'intolleranza Intolleranza è un sinonimo di intossicazione Quindi forse per definire meglio allergia e intolleranza Dovremmo definire l'allergia, allergia Intolleranza e intossicazione Quindi un'intossicazione subdola continua Che mi può provocare un problema Ecco, quali sono le reazioni anche avverse Che possiamo avere entrando in contatto con gli alimenti? Sono le più disparate Si va da... Innanzitutto noi possiamo entrare a contatto con gli alimenti Per contatto, ingestione Oppure inalazione Oppure attraverso tutti gli additivi, conservanti, coloranti Le reazioni che posso sviluppare Possono essere mal di pancia, gonfiore, nausea, vomito, stipsi, diarrea Ma posso anche andare incontro a aumento o diminuzione di peso Aumento di ritenzione di liquidi, diminuzione di ritenzione di liquidi Quindi sono cose strane anche Che non hanno a che fare semplicemente con i rash cutanei Che sono tipici di un'allergia Perché quando si parla sono allergico alle graminacee La prima cosa che mi viene in mente è Mi prude la cute, mi fanno solletti con gli occhi Mi cola il naso Mentre posso anche andare incontro a problematiche Come per esempio di aumento o diminuzione di peso Oppure di stipsi o di senteria Ecco è vero che se non curiamo queste Diciamo intolleranze alimentari Si può andare incontro anche a patologie più grave A livello intestinale E anche sviluppare patologie neurodegenerative Ma assolutamente Anche perché io continuo a mettere nel corpo una sostanza tossica Una tossina Continuo a mettere sostanze nel corpo che il mio corpo rifiuta E quindi a lungo andare posso sviluppare per esempio delle ulcere Delle abrasioni Oppure posso andare incontro anche per esempio patologie neurodegenerative Come la fibromialgia, dolore articolari, artrite reumatoide Cioè quelle problematiche che non sono correlate Sono difficili da correlare a qualcosa Che paradossalmente potrebbe essere l'alimentazione stessa E quindi l'alimento stesso Ecco addirittura stavo guardando che tra i sintomi Esiste anche, è collegata questa problematica La depressione, l'ansia, l'insonnia Ci sono anche le vertigini Oltre alla cosiddetta torse quella persistente Certo, certo che non dipende da un batterio Da un virus o da un'infiammazione Ma semplicemente da quello che mangio Per quanto riguarda anche le micranie, nevralgie, vertigini Ho persone per esempio che sono allergico, intolleranti a determinati alimenti Che accusano molto spesso queste vertigini Proprio perché la vertigine è dovuta a una mancanza di digestione Cioè il mio corpo fa fatica a digerire quell'alimento E quindi mi può creare proprio la vertigine Quindi abbiamo visto questo aspetto Adesso vediamo quale è il collegamento che esiste tra l'allergia e l'intolleranza Cioè i sintomi bene o male sono gli stessi Certo, questa slide è molto significativa A destra in blu abbiamo rappresentata la sintomatologia dell'intolleranza Che va dalla difficoltà di digerire, ai dolori addominali Alla sensazione di gonfiore Dall'altra parte a sinistra abbiamo le asintomatologie provocate dalle allergie Come l'orticaria, la dermatite, la sindrome anche della pelle irritabile Quindi questi ponfi Se guardate in mezzo sono problematiche che sono comuni sia alle allergie che alle intolleranze Che sono problematiche che non centrano niente con l'allergia vera e propria Quindi con una dermatite Perché si parla di diarrea, di stipsi, di tosse e di infezioni, intossicazioni Quindi queste cose possono accumulare sia un'intolleranza e un'allergia Ovviamente la difficoltà sta proprio nel capire se si tratta di un'intolleranza o di un'allergia L'intolleranza è passeggera, è un'intossicazione Quindi dopo un periodo di disintossicazione riesco a reintegrare quell'alimento Se io sono allergica, come si è detto più volte, rimango allergica E quindi è difficile guarire completamente da quell'allergia Ecco lei, Tatiana, è allergica o è intollerante per la precisione? Io sono allergica e anche intollerante in particolare ad esempio al lattosio Io ho visto che negli anni, pur mangiando, facendo attenzione ai cibi Principalmente la frutta, perché io vedevo la reazione immediata Che mi dava fastidio, la gola o comunque gli occhi, una reazione di prurito immediata Quindi capivo che quello dovevo evitare Però ad esempio altri alimenti che abbiamo scoperto con la dottoressa Come ad esempio frumento, qualsiasi pasta o anche alcune verdure Io non ho mai fatto attenzione più di tanto Nel senso che non pensavo ci fosse una reale correlazione Perché io pensavo allergia, reazione cutanea o comunque fastidio immediato Non ho mai pensato che potesse causare anche dolori di stomaco Problemi all'intestino Cosa che invece negli anni è aumentato sempre più Mentre da una parte quelle respiratorie diciamo si sono un po' assestate Quelle del fisico interne sono peggiorate Quindi facevo fatica a digerire Però non capivo mai da cosa fosse dovuto realmente il problema Perché magari una volta mi dava fastidio, la volta dopo no Molto spesso è questo che trae in inganno Uno non riesce bene a decifrare Perché proprio come l'hai ben detto La reazione non è poi sempre immediata, uguale tutte le volte A volte l'alimento magari non mi dà poi così fastidio Nel suo caso spesso lei nasce come allergica E si è trasformata in intollerante Quindi allergica a determinate piante ed è diventata intollerante a determinati alimenti E qui stiamo parlando del cross, no? Esatto, del cross reattività Quindi nasco come allergica Quindi quando taglieranno magari un campo di frumento Mi darà sempre fastidio e quindi la reazione è immediata Ma la cross reattività con determinati alimenti Che possono reagire negativamente con la mia allergia Sono un'intolleranza Quindi ritorniamo al concetto di prima È un sintomo che magari si verifica due o tre volte Poi la quarta volta non si verifica Perché è un'intossicazione E dipende anche dalla quantità di alimento che mangia Magari mi faccio una pasta col pomodoro E pochissimo pomodoro non ho la reazione La volta dopo, la volta successiva Consumo la pasta con tanto pomodoro E quindi ho una buona reazione E la difficoltà sta proprio lì nel capire Come mai una volta ho reazione e una volta no Cosa ho cambiato nella mia alimentazione Ecco ma questo è un problema collegato a livello genetico familiare O perché ci sono così tante persone che sono allergiche Spesso può essere coniugato con un discorso di genetica E quindi non so, la mamma, il papà, la nonna sono stati allergici E quindi spesso anche i figli sono allergici Hanno le stesse o altre allergie Oppure si tratta anche di un'abitudine a mangiare determinate cose E quindi non so, cibi pronti, cibi preconfezionati Molte sostanze, per esempio, pieni di conservanti, coloranti Quindi anche la qualità alimentare potrebbe influire Potrebbe portarmi anche a queste reazioni avverse Quindi sia entrambi i casi Un discorso di genetica E un discorso invece di alimentazione vera e propria E comunque c'è anche una riduzione delle infezioni Un sistema di vita occidentale nostro Quello che ci porta a entrare a meno in contatto Paradossalmente la troppa pulizia Noi siamo molto puliti Disinfettiamo qualsiasi cosa Quindi i nostri batteri amici Che si trovano sulla nostra superficie del corpo Vengono ammazzati da tutte queste creme Da tutti questi saponi Quindi la nostra barriera di protezione primaria Che è l'acute viene ridotta E quindi queste particelle riescono a entrare nel nostro organismo Vengono individuate come sostanze strane E quindi mi scatenano tutta una risposta infiammatoria Una reazione, una protezione del nostro corpo Ovviamente non dico di non lavarsi Però magari di non essere ossessivi Ogni volta che si tocca qualcosa lavarsi le mani Quindi un po' di sana sporcizia tra virgolette Potrebbe servire proprio per aiutarmi a risolvere questo problema Questo è un problema che stanno affrontando molti bambini Molti bambini diventano allergici già da piccolini Quindi già sotto gli otto anni accusano queste allergie respiratorie Queste allergie alimentari Che magari si risolvono man mano crescono Però la problematica è che il bambino deve mangiare questi alimenti Per riuscire a crescere Quindi se è già allergico alla grande maggior parte di questi alimenti Probabilmente farà fatica proprio nella sua evoluzione Ecco qui lei ha preparato dei dati davvero piuttosto diciamo allarmanti Perché questa patologia colpisce 2-2,5% della popolazione adulta Addirittura il 7,5% sotto i due anni È tante Queste percentuali ovviamente sono in aumento Quindi sono dati che sono veramente inquietanti Parliamo anche delle allergie respiratorie Anche allergie respiratorie Che nel bambino si sviluppano soprattutto Non solo respiratorie ma anche alimentari Quindi la mela, la pera, la pesca, l'uovo, il latte Che poi danno anche reazioni topiche Perché ci sono tanti bambini Io li vedo adesso Sto forse un po' più attenta perché è un bambino piccolino Ci sono tanti bambini poverini Che sulla pelle o sulle mani hanno Questa dermatite atopica Che non si sa da cosa possa essere provocata Potrebbe essere provocata proprio da queste allergie O da queste intolleranze Un'altra problematica che sviluppano questi bambini È dovuta proprio al fatto che Non vengono più allattati molto spesso Spesso ho mamme che allattano un mese, due mesi Oppure che non allattano assolutamente Il latte materno trasferisce gli anticorpi Quindi si sono visti studi che Se io riesco a allattare mio figlio più dei sei mesi Riesco a trasmettergli gli anticorpi E quindi lui sarà meno allergico del suo compagno Invece che non è stato allattato Ecco, vediamo agli allergeni più comuni Quali sono? Tutti Si parte dalla carne Si passa al pesce Si passa ai crostacei Si passa al tuorlo d'uovo Alle proteine del latte Ai coloranti I conservanti Alla frutta secca Quindi qualsiasi alimento Può essere un allergene E quindi può sviluppare Può farmi sviluppare una risposta infiammatoria Ovviamente poi dipende dalla persona Non è che tutti devono scatenare una risposta Tanti sono i test convenzionali e non convenzionali Abbiamo per esempio il vega test Il test dell'iridologia Quindi guardando l'iride che viene determinato Se io ho una problematica o altro Oppure un test che per esempio uso per l'intolleranza alimentare È proprio il test citotossico Quindi mediante prelievo del sangue E analisi proprio dei globuli bianchi Che sono i responsabili proprio dell'intolleranza Dell'intossicazione stessa Con Tatiana siamo partiti da un altro test Siamo partiti dai suoi test allergologici Quindi lei è venuta nel mio studio Presentandomi tutte le allergie che aveva Con l'intensità e il grado Che lei ha fatto in ospedale? Sì, ho fatto in ospedale in vari centri Perché ripeto più o meno i controlli ogni 4-5 anni E c'è una classifica di tutti quelli che sono gli allergeni Più o meno gravi che ho Quindi al momento sto curando ad esempio le graminacce Le betulacce che sono quelle che mi danno maggiore fastidio Però ho anche ad esempio le paritarie oppure gli acari A cui si è aggiunto ultimamente anche l'intolleranza al latte Purtroppo abbiamo scoperto Sono tutti i controlli che abbiamo fatto Proprio perché magari dopo un po' di tempo Malesseri, stipsi eccetera Non riuscivamo a capire quale fosse il motivo La ragione di tutto questo malessere Che perdurava nel tempo Allora abbiamo fatto questi ulteriori controlli Che purtroppo hanno dato riscontro positivo Quindi gli alimenti che non può mangiare Quali sono per esempio in questo periodo? Perché se dovessimo elencare tutti quelli Sì, no, sono tantissimi Però questo periodo ad esempio ho molta frutta Quello che ad esempio pompelmi ho provato a mangiare Però mi danno reazione immediata di prurito Le fragole Io adoro ad esempio il melone, il pomodoro Purtroppo al momento vedo che mi dà molto fastidio Quindi proprio devo eliminarli dalla dieta Mi consolo con altri alimenti Tipo la bietola, i broccoli Insomma cercando di variare tutti i giorni L'alimentazione Perché effettivamente la dieta che attualmente sto seguendo È piuttosto restrittiva E non è facile A quel momento mi ci devo ancora un po' abituare È restrittiva però I risultati ci sono a livello di salute? I risultati ci sono, vedo che sono stati davvero immediati Perché comunque ad esempio dopo un mese Abbiamo verificato con la dottoressa Che oltre a perdere peso Mi sono sgonfiata molto Non ho più quei dolori lancinanti Che avevo di stomaco Anche l'intestino è molto più regolare Vedo che effettivamente ho un riscontro immediato Quindi c'è soddisfazione anche a fare questi piccoli sacrifici E quale test ha fatto? Dunque il test allergico in ospedale? Ho fatto in ospedale ho fatti diversi L'ultimo che avevo fatto si chiama IgE Che è una ricerca sul sangue Per vari alimenti E anche Allergeni respiratori E purtroppo hanno dato ancora esito positivo E quindi bisogna cominciare con un'alimentazione disintossicante E quindi togliere il più possibile Quindi con lei abbiamo cominciato utilizzando la cross reattività Quindi io sono allergico alle graminacee Esistono determinati alimenti che mi danno problemi Quindi crossano negativamente con la mia allergia Dovrebbe esserci proprio una slide Che elenca proprio tutte queste cross reattività Tra alimenti e alderi Quindi lei diceva Mi dà fastidio il pomodoro Mi dà fastidio il pompelmo Proprio per la sua allergia alle graminacee Chi ha problemi alle graminacee Dovrebbe eliminare anche tutti gli agrumi Dovrebbe eliminare il pomodoro Dovrebbe eliminare per esempio il kiwi Oppure dovrebbe eliminare anche la fragola La mela, la pera E questa è la cross reattività Esatto è questa Allora a destra abbiamo la classificazione delle allergie Presenti nei determinati mesi Per esempio la betulla La fioritura inizia a gennaio E termina più o meno ad aprile Chi è allergico alla betulla dovrebbe stare attenta anche a questi alimenti La mela, la pera, la pesca, l'albicocca, la prugna, la ciliegia, la banana La noce, la nocciola, il sedano e la carota Ma soprattutto nel periodo dell'impollinazione Perché fanno parte di quella famiglia di piante Giusto? Non fanno parte di quella famiglia Ma è come se mangiando una mela Il mio corpo ricevesse un'informazione Che quella è betulla e quindi deve attaccarla E quindi si parla di cross reattività Cioè è come se io mangiando una mela Stesso in un campo di betulla e respirassi la betulla Quindi il mio corpo vede la mela come un antagonista E quindi la vado ad attaccare E mi scatena quella reazione allergica Che può essere gonfiore, ponfi Ma può essere anche per esempio aumento di peso Cattiva digestione Lo scopo è eliminare quei periodi Quegli alimenti soprattutto nel periodo dell'impollinazione Lei è allergica a tutti questi alimenti È allergica a tutte queste piante Quindi non è che possiamo eliminarle completamente A seconda del mese in cui ci troviamo Cominciamo a eliminare quel determinato Quindi diciamo che una persona allergica alle betulle Se si fa una centrifuga di mela e carota in questo periodo Non va molto bene Magari la possiamo fare ad agosto La possiamo fare a settembre Quando non c'è più l'impollinazione della betulla Poi bisogna fare attenzione Perché se poi sono allergico alle graminacee Sappiamo che la pera, la pesca e la bicocca Fanno parte anche delle graminacee Quindi dovrò stare attento anche a questi alimenti a settembre Perché le graminacee vanno da un periodo più ampio Da aprile fino a settembre Diventa difficile, tra virgolette Poi dopo un allergico impara Col tempo, viene seguito passo passo Proprio per imparare qual è la sua problematica E lo scopo è proprio quello di inserire ogni tanto questi alimenti E come diceva lei Vado a verificare se mi pizzica in bocca Perché quello che succede nel palato Succede anche a livello intestinale Quindi se io mangio il pompelmo e vedo che pizzica Magari lo tengo da parte Provo un altro agrume Magari provo l'arancia E mi dà meno problemi Se mi dà meno problemi Magari comincio a mangiare quella Quindi è proprio capire cosa ci dà fastidio E cosa invece no E utilizzare quello nella mia alimentazione Ecco succede a livello intestinale Ma succede anche a livello dei nostri globuli I globuli bianchi Si spaccano Esatto Sono i responsabili dell'infiammazione Forse c'è una slide Esatto Dove il globulo bianco A contatto con un alimento che crea fastidio Lui libera Si spacca Cioè libera le sostanze infiammatorie Quelle sostanze infiammatorie Che mi provocano gonfiore Mi provocano ritenzione di liquidi Mi provocano magari una lacrimazione Mi provocano dei rascutane Quindi una reazione allergica Questo è visto mediante il prelievo del sangue Quindi non è il famoso IPRIC o patch test Dove mi pungono con un alimento A cui io sono allergico E vado a vedere la reazione Ma semplicemente viene prelevato il sangue E si va a vedere come reagiscono i miei globuli bianchi A contatto proprio con gli alimenti E questo invece cosa Questo è sempre un sangue Questa è una diaspositiva È una slide dove c'è uno striscio di sangue Visto al microscopio Dove in rosso abbiamo i globuli rossi E quelli segnati con la freccia blu Sono tutti i globuli bianchi Questo è un controllo negativo Forse la slide successiva Questa fa vedere effettivamente Che il globulo bianco Dove c'è scritto globulo bianco Di terzo grado e di primo grado Si è spaccato Quindi ha reagito nei confronti di questo Che era un sodio nitrato Che era un conservante E ha creato un'irritazione Quindi quando noi leggiamo sull'etichetta sodio nitrato Sì Se io sono intollerante o allergico a quella sostanza Il nostro globulo diventerà così Addirittura può spaccarsi Completamente Il terzo grado vuol dire che si spacca completamente Secondo è una reazione meno grave Primo è una reazione meno grave ancora Però la reazione più grave Può crearmi delle problematiche serie Che possono essere anche di senteria Questo per esempio è l'acido citrico Un altro conservante Perché questo test viene utilizzato anche per i vari conservanti Quindi posso andare anche da gare Se mi danno problemi i conservanti E questa è una slide dove in blu sono rappresentati I propri globuli bianchi Che si stanno spaccando Con l'acido citrico L'acido ascorbico L'acido ascorbico è un altro Di queste sostanze che si trovano Ma cosa servono? Sono dei conservanti Sono degli antimuffa Quindi ammazzano tutto ciò che è vitale in un alimento Quindi se io li mangio Mi ammazzano la mia flora batterica intestinale Quindi abbasso le mie difese immunitarie E quindi prendo magari fermenti lattici Perché ho problematiche intestinali Ecco bello perché si trovano praticamente in tutti gli alimenti Sono ubiquitari L'acido ascorbico come l'acido citrico Non sono quelli naturali del limone Ma sono quelli di sintesi E che si trovano per esempio nelle scatolette dei legumi Quando aprite la scatoletta dei legumi La mettete sotto l'acqua e forma la famosa schiumetta Quello è acido citrico Però con il legume riesco a toglierlo Se mangio un'altra sostanza come il pomodoro La conserva di pomodoro Che ha dentro questo acido citrico Non riesco a scolarlo E quindi lo mangio direttamente Ecco qui stiamo vedendo le varie piante Che possono creare le allergie Le abbiamo viste prima Praticamente tutto La maggior parte di noi italiani Sono allergici alle graminacee Graminacee è il frumento Graminacee la troviamo Soprattutto in pianura padana Troviamo campi di graminacee Loro hanno problemi Soprattutto nel periodo di settembre-ottobre Quando fine agosto Quando cominciano proprio a tagliare Le grano turco e tutto Comunque abbiamo anche per esempio Le ortiche che possono creare problemi L'ambrosia La parietaria Quindi praticamente tutte le piante Possono essere interessate Qui stiamo vedendo comunque Il collegamento che esiste Tra le allergie e le intolleranze Forse ne abbiamo già parlato anche prima Sì E questa è la grossa reattività Quindi concludendo la nostra trasmissione Se noi siamo allergici e intoleranti Una soluzione c'è che non sia A base di cortisonici o antistaminici? Una soluzione c'è Bilanciando al meglio la mia dieta Ed evitando quegli alimenti Che crossano con la mia allergia Ovviamente la problematica Si presenta in primavera Dove la variabile respiratoria Non la posso controllare Quindi i pollini Quella è incontrollabile? No, perché o metto la mascherina E quindi giro con una mascherina Però l'aria e il vento Mi trasportano questi pollini Però è anche vero che Se noi mangiamo determinati alimenti Posso abbassare la mia soglia di allergia E quindi posso star male Meno rispetto all'anno precedente Dove per esempio ho mangiato Tutti questi alimenti Che mi creavano reazione Quindi in primavera Posso magari vivere un po' meglio E fare meno uso di cortisonici O di antistaminici Che non curano il problema Ma alleviano il dolore Alleviano il problema Tatiana, lei allora Quale sarà, secondo lei La sua prospettiva di futuro? Ma io penso Quale sarà il suo obiettivo? L'obiettivo è sicuramente Di tornare a un'alimentazione Più possibile completa Sono anche consapevole Che comunque ci vorrà ancora molto tempo Sicuramente penso ancora Tutto questo anno Per regolare la funzione Lo stomaco e l'intestino Però sono fiduciosa Ecco, se non si tiene sotto controllo Questo problema Ricordiamolo infine A quali patologie si può andare incontro? Patologie intestinali Ulcere Patologie tumorali Patologie neurodegenerative Quindi non è assolutamente Da sottovalutare E se sono bambini? Malformazioni Difficoltà di crescita Difficoltà anche di apprendimento Perché rientrano ancora Le patologie neurodegenerative Ecco, stiamo vedendo che L'abbiamo visto prima Il dato è ancora più elevato Rispetto a quello degli adulti Assolutamente Stiamo parlando del 7% Certo, che è tantissimo Allarmante Quindi è un dato estremamente elevato E presumbo sia in continua crescita Assolutamente Anche perché l'inquinamento Non si riduce Gli anticrittogramici Non si riducono E l'agricoltura È peggiorata Negli ultimi anni Ecco, le persone Magari che hanno questa problematica Vedendo tutto questo Diciamo un po' pasticcio Che abbiamo presentato oggi Di alimenti Da eliminare Possono essere magari presi Da Sopraffatti da un po' Di sconforto Però diciamo che L'ausilio del dietologo Del nutrizionista È quello di accompagnare Certo Passo per passo E capire Piano piano si impara Certo Assolutamente Quindi non preoccupatevi Se siete allergici A tutti quegli alimenti Che abbiamo visto Se avete tutte quelle problematiche Che abbiamo elencato Piano piano Riusciamo a costruire Qualcosa di apposito Un'alimentazione apposita E piano piano Riusciamo a risolvere Le problematiche Ci mettiamo un anno Due anni Dipende da quanto Vi siete intossicati In precedenza Perfetto Dottoressa Io la ringrazio Oggi sono stata Molto attenta Perché io sono Asmatica allergica E quindi anche questo È il mio periodo Clou dell'anno E sto sempre Molto attenta A quello che mangio Perché so benissimo Che se abuso Di determinati alimenti Che adoro Tipo i carboidrati È una cosa che Il frumento In questo momento Se lo mangio Mi crea Una bella crisi Asmatica Quindi lo devo assolutamente Bandire E so anche che Tanti alimenti Possono aumentare La mia allergia E purtroppo Andando anche negli ospedali Sono tantissime le persone Che hanno diverse problematiche E sono veramente convinta Che una corretta alimentazione Di esclusione Certo Può aiutare Sa veramente Essere un valido aiuto Perché il cortisone In questo momento È già da un po' Che l'ho abbandonato E quindi devo dirvi Che sono Sono molto soddisfatta Del percorso Che sto facendo Incrocio le dita Perché Insomma Bisogna stare sempre attenti No Tatiana Sempre a controllarsi Sempre verificare bene La composizione degli alimenti È un vero stile di vita Davvero Sì Un nuovo stile di vita Va bene Io dottoressa La ringrazio ancora Ringrazio ancora Tatiana Per averci portato La sua esperienza Se avete delle domande Da porre alla dottoressa Subacchi Per l'argomento Di questa serata O di tutte le altre tematiche Che abbiamo affrontato Anche nelle scorse puntate Dalla dieta vegetariana Alla dieta di coppia Alla dieta allo sportivo All'allattamento Alla gravidanza Ai bambini Qualsiasi Le intolleranze Le allergie E diversi Il nickel Potete Insomma È un ampio Spetto È un argomento Di vasto campo Quello che affronta La dottoressa Subacchi Potete farlo Utilizzando Il sito internet Che è Aliaconlus.org Del quale Lei poi è anche Presidente Di questa associazione Che è l'associazione Per la lotta Delle intoleranze Alimentarie Della celiachia Sul sito Facebook Lisa Nutrizionista Oppure nei suoi studi Di Cremone Via Giuseppina 21 Crema Via Lapira 8 Manerbio Via Verdi 64 E al cellulare 366 4759 134 Vi ringrazio ancora Per averci seguito Buonasera dottoressa Grazie Ci rivedremo di nuovo Ai nostri studi E mi raccomando Perché mi preme Ricordarvi Che sapere è salute Oppure sapere in salute Grazie ancora E buon proseguimento Di serata Arrivederci Grazie a tutti